Musica Indagato per abusi sessuali su minori, a Brindisi è in corso in queste ore l'esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro nell'abitazione del paroco di una chiesa del centro storico. L'indagine è diretta da Giuseppe De Nozza, PM del Tribunale di Brindisi, con i carabinieri del reparto operativo di Brindisi, coordinati dal colonnello Alessandro Colella. Le indagini sono partite in seguito ad una segnalazione inviata alla redazione del programma televisivo Le Iene da una delle presunte vittime. Dopo aver acquisito la segnalazione, i militari hanno avviato una serie di accertamenti. Contestualmente alle attività di perquisizione, i carabinieri hanno effettuato anche alcune acquisizioni documentali presso la sede Arcivescovile per chiarire meglio il quadro probatorio già emerso. Lo stesso paroco, lo scorso 15 settembre, aveva ricevuto la visita di un inviato della nota trasmissione televisiva, ma si rifiutò di parlare. Si cambia pagina. La giunta regionale ieri in seduta straordinaria ha approvato il documento che disciplina la nuova rete dell'emergenza urgenza della Regione Puglia, che prevede la riconversione dei pronto soccorso di base in punti di primo intervento e in punti di primo intervento territoriali. La rete dell'emergenza Urgenza Territoriale 118 sarà integrata dal servizio di Eli Soccorso, la cui base operativa sarà Foggia. I punti di primo intervento sono centri che dispongono di competenze cliniche strumentali adeguate a fronteggiare e stabilizzare temporaneamente le emergenze fino alla loro attribuzione, al pronto soccorso dell'ospedale di riferimento. Sono in grado di fornire risposte a situazioni di minore criticità e bassa complessità. I PPI saranno trasformati in postazioni medicalizzate del 118, cioè punti di primo intervento territoriali, al fine di trasferire alle cure primarie le patologie a bassa gravità. Così in provincia di Brindisi, secondo l'ASL di appartenenza, accade che il pronto soccorso di base da tre diventano uno, ostuni. Il punto di primo intervento è quello di San Pietro Vernotico, che in seguito sarà convertito in PPT e sarà con Ceglie Messapica, Cisternino, Mesagni e Fasano. Resta invariato invece il numero dei DEA di secondo livello, Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Ospedale Perrino di Brindisi e Ospedale di Francavilla Fontana. Per quanto riguarda le postazioni e i mezzi di soccorso, Brindisi, Ospedale Perrino, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagni e Ustuni saranno fornite di automedica. Brindisi Centro, Ceglie Messapica, Cisternino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normani e Torre Santa Susanna saranno dotati di mezzi di soccorso avanzato con medico a bordo. Fasano, Stuni, Mesagni e Brindisi Perrino, Francavilla Fontana, Speziale Caruvigno, Brindisi Porto, San Donaci, San Prancrazio, Latiano e Oria di mezzi di soccorso avanzato, India, ambulanza di soccorso con infermiera a bordo. Tuturano e Villa Castelli di ambulanza Victor con volontari a bordo. La rete di emergenza urgenza si pone come ponte fra territorio e ospedale e si propone di fornire assistenza su tutto il territorio. Le patologie saranno gestite secondo la gravità e l'urgenza e saranno dirottate verso i centri ospedalieri più adatti per la cura. Le telecamere dell'impianto di videosorveglianza del Consorzio Asi di Brindisi hanno registrato nei giorni scorsi le immagini relative allo sversamento nei pressi del rondò di Via Nobel nella zona industriale di Brindisi di residui di lavorazione contenuti in una betoniera. Tutti gli eventi ripresi dalle telecamere del Consorzio sono stati prontamente segnalati al comando della Guardia di finanza di Brindisi al quale sono state anche consegnate le immagini registrate per l'individuazione degli autori del reato. Successivamente gli agenti della Guardia di finanza dopo aver provveduto ad identificare il mezzo hanno circoscritto la zona interessata dallo sversamento del residuo di lavorazione in attesa che l'autore del reato provveda a rimuovere il tutto e a portarlo in discarica. Nelle foto estratte dalle immagini registrate si può notare il momento in cui l'operatore ha svuotato la betoniera e la zona circoscritta successivamente dagli agenti della Guardia di finanza. Se l'amministrazione Bruno riuscirà a riaprire positivamente il capitolo intermodale ne sarò ben lieto e non esiterò a riconoscerlo. Afferma Euprepio Curto, consigliere comunale di Progetto Italia, che però sulla questione avanza due rilievi, uno di metodo e l'altro di merito. Da un lato l'atteggiamento del sindaco che nel corso del Consiglio Comunale per curto dimostrò quasi che l'intermodale fosse un'esclusiva questione privata. Dall'altro vengono contestate le dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'assessore Tommaso Resta che per l'intermodale basterebbe che la Regione Puglia rinunciasse alla restituzione della parte del finanziamento richiesto con una revoca del provvedimento. Per questo motivo Progetto per l'Italia chiederà subito alle altre forze politiche di opposizione di voler concordare la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale urgente per una disamina politica generale sullo stato dell'arte e per fare luce sulla vicenda poco chiara. Troppi sino ad oggi sono stati gli annunci, conclude Curto, per non pretendere una loro puntuale verifica nel luogo più alto deputato a dibattere sugli interessi della città. Ha replicato agli accuse e l'assessore Resta. Rimaniamo con i piedi per terra e non creiamo false aspettative, ha detto. Intanto voglio sottolineare che il senatore Tommaselli e il sindaco da tempo stanno lavorando perché venga avagliata la possibilità del recupero del centro di carico, cercando interlocutori credibili che rendano possibile una svolta inseguita da anni. L'autorità portuale di Taranto si è effettivamente dimostrata interessata alla struttura. Resta inoltre rimarcata la volontà dell'amministrazione di conservare la vocazione di centro di riferimento per lo stoccaggio e prima lavorazione di produzioni agricole prevalentemente locali. E bisognerà capire se la struttura va inserita in una rete consortile con un unico partner, dal momento che si è pure parlato di istituzione di zona franco, struttura autonoma ed indipendente a servizio anche del porto di Taranto. Ovviamente, aggiunge l'assessore Resta, ci portiamo dietro una serie di problemi legati alla gestione del contenzioso restituzione delle somme alla Regione Puglia, oltre allo stato attuale della struttura che paga anni di devastazione e conclude che necessario e prioritario resta il riperimento di risorse. Il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestari rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha incontrato a Roma il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, e l'assessore all'agricoltura Fabrizio Nardoni per un aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi di lotta obbligatoria al batterio Xilella fastidiosa previsti dal decreto ministeriale del 26 settembre 2014. Durante l'incontro si è rilevata la necessità di intensificare ulteriormente gli interventi. La Regione ha posto la questione del possibile avvio delle procedure per lo stato di emergenza fitosanitaria del territorio colpito con l'eventuale nomina di un commissario a cui attribuire poteri straordinari di intervento per rendere ancora più tempestive le azioni che si renderanno necessarie. Il Ministero ha dato piena disponibilità a valutare ogni ulteriore azione, consapevole che la delicatezza della problematica non è limitata solo al settore agricolo ma interessa anche aspetti di natura paesaggistica e ambientale. Terminata la fase di monitoraggio e analisi di tutte le zone colpite, nei prossimi giorni la Regione presenterà i confini geografici dell'aria tampone e della diacente zona Cuscinetto di 2 km da Ionio ad Adriatico. In queste aree verranno attuati gli interventi approvati dal Comitato Scientifico costituito appositamente come previsto dal Decreto Ministeriale del 12 settembre 2014. In particolare si prevedono interventi contro adulti dei vettori, eliminazione meccanica delle erbe spontanee degli stadi giovanili dei vettori eventualmente presenti, l'eliminazione delle piante interessate limitatamente all'aria infetta, l'eliminazione delle piante ospiti usate nelle alberature stradali e negli spartitraffico, monitoraggio intensivo. Inoltre ulteriori misure obbligatorie a carico delle aree infette saranno valutate dal Comitato Fitosanitario nazionale già convocato per il 4 novembre prossimo. Veniamo fuori da un lungo ciclo in cui i trasferimenti dello Stato sono andati diminuendo costantemente verso il Mezzogiorno d'Italia, tanto che i fondi strutturali che avrebbero dovuto essere moneta aggiuntiva hanno completamente surrogato i mancati trasferimenti dello Stato. Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendorla, parlando a Roma con i giornalisti a margine della presentazione del rapporto Smimez 2014. Oggi il rischio è che dopo aver tolto il portafoglio nazionale al Sud si tolga anche il portafoglio comunitario. Se c'è il taglio del cofinanziamento per la spesa comunitaria, il rischio è che per l'anno prossimo, il 2015, che è un anno importante in cui le regioni del Sud devono spendere 10 miliardi di euro, le stesse regioni siano concretamente e tecnicamente impossibilitate a spendere. Insomma, quanti danni e quante beffe per il Sud e l'Italia a fronte di un'esplosione di chiacchiere pirotecniche da parte di Palazzo Chigi sulla capacità di spesa comunitaria del Sud, Vendorla ha specificato che c'è una straordinaria e stupefacente diffamazione nei confronti del Sud, perché secondo dati ufficiali i ministeri sono incapaci a spendere e le regioni peggiori nelle performance di spesa si chiamano Piemonte, Sardegna e Lazio. La mia regione, la Puglia, ha continuato Vendorla, è la migliore nelle performance della spesa comunitaria. La verità è che il Sud viene spogliato delle risorse nazionali, aggiunto poi il Presidente, viene chiamato e convocato per mettere soldi per tutti gli ammortizzatori sociali, per il terremoto e per tutte le emergenze nazionali. Contemporaneamente si continua a prendere soldi dai due salvadanaio destinati prevalentemente al Sud. Insomma, spogliare il Sud e metterlo nella condizione poi di non spendere neanche le risorse del salvadanaio comunitario costituisce sicuramente un bel problema. Infine, a causa delle scelte che si stanno compiendo con la manovra finanziaria, Vendorla ha detto che i problemi del Paese si stanno aggravando perché colpire il welfare e i servizi sociali significa rendere sempre più poveri i cittadini, i quali avranno quindi ancora meno soldi da fare entrare nel circuito dell'economia. In questo numero del Salus Tg, contro l'HIV disponibile anche in Italia un nuovo inibitore delle enzime integrasi. Italiani eligiano le prescrizioni del medico, ma solo se la malattia è grave. Mangiare cioccolato a 60 anni regala una memoria da trentenni. L'armamentario dei farmaci contro l'HIV continua ad arricchirsi di nuovi prodotti. L'ultimo arrivato, ora disponibile anche in Italia, è un nuovo inibitore dell'integrasi, un enzima vitale per il virus che senza non riesce a replicarsi. Dolithagravir ha un vantaggio che ci ha consentito di togliere le castagne dal fuoco in coloro che dopo una serie di trattamenti antiretrovirali per l'insorgenza di numerose mutazioni avevano un virus in teoria invincibile. Invece, con uno studio che è stato fatto con Dolutegra, che si chiama Viking, tra l'altro il nostro istituto è stato quello che ha reso possibile il successo in più del 70% dei pazienti, che era difficile. Gli italiani hanno fiducia nei medici, ma l'aderenza alle prescrizioni da parte dei pazienti varia a seconda della gravità della patologia. Nel caso di malattie gravi, nel 90% dei casi, le prescrizioni del medico vengono seguite scrupolosamente nelle dosi e nella durata. Se però la malattia è meno grave, la percentuale degli italiani obbedienti scende al 57% e così aumentano le decisioni soggettive e l'autogestione. Sono i dati del monitor biomedico 2014 del Censis. Secondo una ricerca americana che sta facendo il giro del mondo, l'assunzione giornaliera di 900 mg di flavanoli, antiossidanti, presenti nelle fave di cacao, possono regalare a persone di 60 anni una memoria da 30 o 40 anni, già dopo soli tre mesi di assunzione. Il cacao infatti sembra in grado di rallentare o persino invertire la perdita di memoria tipica dell'avanzare dell'età.